... Riapre oggi dopo 12 anni la sede della Cassa Marittima in via Cesare Battisti a Torre del Greco. Questa mattina sono intervenuti il sindaco Luigi Mennella e la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Loredana Raia insieme ai responsabili che si occuperanno di gestire la struttura. Grande la soddisfazione dei lavoratori del mare. Dopo 12 anni di sofferenza siamo un'altra volta a essere assistiti al nostro paese, un paese di origine. Spero che sia una cosa duratura e non succeda niente più, che si elacuere tutti i marittimi raddisfi. Quali sono stati i problemi in questi anni? Il problema è che a Venno, chiove, non chiove, il timbre, il timbre sono sempre 12 km di distanza, 13 km. E poi stavano tutte le regioni là, erano così, invece qua vedo che adesso forse è più svelta la cosa. Sono contentissimo, così non dobbiamo andare sempre a Napoli e abbiamo una cosa nostra qui a Torre del Greco, che è una cosa importantissima. È una cosa buona per tutti noi, almeno abbiamo la nostra cassa marittima a Torre del Greco, anche se usufruviamo di Napoli, era una cosa buona, però adesso ce l'abbiamo a Torre e è ancora meglio. Quali sono stati i problemi in questi anni con l'assenza della cassa marittima? No, problemi no, problemi che dovevamo andare a Napoli, comunque noi dovevamo fare cassa marittima, malattia per noi stessi, quindi andavamo a Napoli e non è che il problema era Napoli, il problema è che noi ce l'avevamo a Torre e quindi usufruiamo della nostra cassa marittima a Torre, questo è. Penso che il sistema attualmente sta funzionando, ringraziando Dio dopo tanti anni ci abbiamo un'altra volta le nostre esigenze. In tutti questi anni quali sono stati i problemi maggiori? Le problematiche di andare a Napoli quando la giornata piove, uno che non ha la macchina, questo è il problema, però ringraziamo al nostro comune, al sindaco e a tutti gli assessori e tutti quelli là che si sono mossi per questa macchina che hanno messo in moto.